Il Consiglio regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEFRO e la legge di stabilità 2024, il collegato alla legge di stabilità e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con il voto favorevole del PD e il voto contrario di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Italia Viva non ha partecipato al voto. Inoltre sono stati approvati due emendamenti del Presidente della Regione Eugenio Giani che prevedono un aumento dell'addizionale regionale IRPEF per redditi superiori a 28.000 euro e l'utilizzo delle risorse ottenute per la sanità e gli aiuti agli alluvionati. L'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF prevede un passaggio dall'1,68% al 3,32% per redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro e dall'1,73% al 3,33% per redditi superiori a 50.000 euro che dovrebbe portare ad un aumento delle entrate di circa 200 milioni di euro. Il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato che non arriverà il payback sanitario e che l'aumento dell'addizionale IRPEF è necessario per mantenere i servizi sanitari della Regione. Giani ha annunciato che i 200 milioni di euro saranno utilizzati anche per aiutare le comunità colpite dalle alluvioni, di cui 10 milioni saranno destinate alle famiglie alluvionate in aggiunta ai 15 milioni già stanziati nel bilancio corrente. Ma oggi possiamo dire in Toscana di aver salvato la sanità pubblica. Quello che chiaramente ormai il Governo vuol fare è quello di indurre tagliando, impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci spettano per legge e che l'anno scorso un diverso Governo con il Ministro Speranza avevamo avuto. Il tentativo è chiaramente di indurre, restringendo le spese alla sanità, di tagliare e spostare sulla sanità privata quelle che sono le indicazioni. Noi a questo ci ribelliamo, l'abbiamo dovuto fare proprio all'ultimo momento perché prima ci avevano fatto in qualche modo pensare che una situazione come quella della sanità toscana era un vanto per la sanità italiana e che quindi sarebbe stato rimediato a queste cifre, a queste risorse. Poi quando è emerso che tutto questo non avveniva, allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale ILPEF. Ma è una tantum. Intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi di imposta ILPEF. Naturalmente quello che è emerso in questo dibattito è il vuoto di proposte dell'opposizione. Tanti discorsi ma se io dovessi oggi mantenere e avere un'idea di come ridurre le spese in sanità dagli interventi dell'opposizione troverai lo zero assoluto. E quindi da questo tratto le conseguenze che abbiamo fatto bene a intervenire con tempestività ora. Se non fossimo intervenuti ora con tempestività probabilmente avremmo avuto un commissariamento quando si fanno i conti, cioè il 30 di aprile. E quindi meglio una posizione impopolare ma che salva la sanità pubblica toscana che seguire il percorso demagogico e populista che ci è stata data dall'opposizione. Allora se fossero arrivate le risorse del payback dei dispositivi medici anche per la metà rispetto a quanto la regione toscana deve avere sulla base di una legge dello Stato non ci sarebbe stato bisogno di fare la manovra fiscale. Ripeto anche per la metà. Stiamo parlando di risorse dovute rispetto alla legge dello Stato che afferiscono alle annualità 2019-2022 quindi soldi arretrati che sulla base di una legge dello Stato dovrebbero essere versati nelle casse delle regioni compreso la regione toscana. Quindi queste risorse non sono arrivate e nemmeno è stato consentito a differenza dello scorso anno per le annualità 2015-2018 di poterle comunque imputare a bilancio in attesa delle erogazioni. Questo ovviamente ci pone un problema soprattutto per la nostra regione che ha un sistema sanitario molto esteso. La regione toscana garantisce prestazioni ed esenzioni che vanno anche oltre i livelli essenziali di assistenza. Noi siamo tra le regioni che offrono i livelli essenziali di assistenza tra i più elevati del paese, lo certifica ogni anno il Ministero della Salute, ma offriamo anche tante altre prestazioni ed esenzioni. Sono state ricordate in questi giorni esenzioni per chi ha malattie rare, screening neonatali, le altre tipologie di esenzioni per disoccupati, casse integrate, persone in mobilità rispetto alla gratuità nell'accesso alle prestazioni sanitarie, solo per fare alcuni esempi, oppure modelli originali come quello del trasporto sanitario che offrono servizi importantissimi che in altre regioni sono a pagamento. Di fronte diciamo alla mancanza delle risorse derivanti dal payback, che ripeto ci spettano per legge dello Stato e noi pretendiamo e pretenderemo anche nei prossimi mesi che queste risorse arrivano, noi ci siamo trovati a un bifio. O fare come in altre regioni e quindi alzare bandiera bianca e sancire la ritirata della sanità pubblica universalistica in Toscana, oppure fare una scelta dolorosa, impegnativa, complicata, come il ricorso alla leva fiscale. Attenzione, ricorso alla leva fiscale che riguarda solo una parte dei contribuenti, il 72% dei toscani non vedrà nessuna variazione rispetto all'addizionale IPEF e con questo ricorso noi salvaguardiamo l'impianto complessivo del sistema sanitario, del suo carattere universalistico, dei servizi, delle esenzioni, ripeto, altrimenti dovremmo spostare l'asso verso il privato e far pagare prestazioni sanitarie cittadini. In questo modo tuteliamo le fasce diciamo più esposte, più fragili della popolazione rispetto al funzionamento del sistema sanitario. Intanto occorre dire che è una decisione che abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani, anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte. Vale a dire, chi più ha gli chiediamo uno sforzo per far sì che la sanità toscana, che è una sanità considerata di eccellenza anche dalle indagini ministeriali, possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire. Oggi la sanità toscana offre dei servizi che vanno oltre i livelli essenziali di assistenza. Posso fare alcuni esempi, la cura dei denti fatti dalla sanità pubblica, lo screening neonatale, il codice rosa, tutta l'esenzione dal pagamento di qualsiasi ticket da parte dei disoccupati sotto l'ISED 18 mila euro. Ecco, noi non possiamo permetterci che la cura dei cittadini e delle cittadine toscane di chi sta in Toscana regredisca, ma anzi abbiamo bisogno semmai di migliorare. Di fronte ad un governo che da una parte in percentuale ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica, dall'altra non ci riconosce il payback che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato. Noi avevamo poche altre scelte, poteva essere quella di mettere il ticket sulle ricette, quello di aumentare i medicinali. Sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha bisogno di curarsi perché ha meno salute. Potremmo rinviare questa decisione come ha detto qualcuno e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce passata la fine dell'anno noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo, non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro, ma sarebbero aumentate per tutti. In più aumenterebbe l'IRAP a carico delle aziende. Quindi questo noi non ce lo possiamo permettere. E allora noi diciamo che questo è un passaggio obbligato per difendere la sanità pubblica, la sanità che deve curare tutti i cittadini indipendentemente dal loro avere e se veramente il governo vuole dare una mano perché questa non si configuri come una tassa indotta dal governo nei confronti dei toscani ci riconosca il PEBEC oppure è meglio rispondendo a tutte le regioni che accetti la nostra proposta di legge, quella che abbiamo inviato al Parlamento alcune settimane fa, di portare il finanziamento per il Fondo Nazionale a sostegno della sanità pubblica almeno al 7,5% del prodotto interno rotto. In realtà invece, lo dice la Corte dei Conti, il governo ce lo sta riducendo al 6,2% per quest'anno, per il prossimo anno al 6% addirittura per il 2025. Ecco perché abbiamo dovuto fare una scelta che è sicuramente una scelta dolorosa ma siamo convinti di aver fatto la scelta più equa nell'interesse dei cittadini e delle cittadine toscane soprattutto di quelle che hanno più debolezza economica. Sì, questa manovra di bilancio resterà nella storia, non credo, della regione toscana semmai nella storia fiscale della regione toscana come la manovra che va a mettere le mani in tasca ai cittadini toscani. È un qualcosa che pensavamo appartenesse, a dire la verità, a un'altra epoca politica. Noi abbiamo sperato fino all'ultimo momento che non si ricorresse, non si riportasse sulla scena politica quella dicotomia che appartiene al passato, per cui se i costi crescono e non si riescono a controllare l'unica maniera che si ha per limitarli è aumentare le tasse ai cittadini. Dispiace per due motivi. La prima perché i soldi del payback non erano sicuri di arrivare nelle casse della Toscana non l'abbiamo scoperto ieri. Che non fossero sicuri, noi potevano anche arrivare, ma che non fossero sicuri lo sapevamo però da almeno 18 mesi. E in questi 18 mesi, tante volte, anche dai banchi della minoranza è arrivato un invito al Presidente Gianni a mettere mano ad una ristrutturazione, ad una riorganizzazione del sistema toscano sanitario, che non è stata fatta. E poi all'ultima abbiamo dovuto aumentare le tasse. Ma c'è di più. Perché oggi il Presidente Gianni in aula ci dice che da oggi partirà una task force alla quale noi crediamo e siamo super favorevoli. Una task force per razionalizzare le spese e riorganizzare il sistema sanitario. Perché grazie a questa task force eviteremo che il provvedimento di aumentare le tasse diventi strutturale. Cioè oggi Gianni ci dice datemi un anno di tempo per lavorare con una task force a razionalizzare le spese del sistema sanitario e tra un anno io ridurrò quelle tasse che oggi aumento. Questo significa che se fosse stata ascoltata la minoranza 18 mesi fa quando dicevamo mettiamoci al lavoro per razionalizzare le spese avremmo evitato beatamente l'aumento delle tasse che arriva sulla schiena dei cittadini toscani a 5 giorni dal Natale e che per qualcuno significa qualche centinaio di euro in più spesi e per qualcuno qualche migliaio di euro in più spesi. Motivo per cui questa manovra di bilancia ha trovato la contrarietà di Fratelli d'Italia. Il nostro giudizio è totalmente negativo. Non era assolutamente il momento di aumentare le tasse ai cittadini toscani dopo tutto il periodo pandemico, poi crisi energetiche soprattutto l'alluvione che ancora oggi stiamo attraversando in Toscana. Si vuol far passare il messaggio che si tassano soltanto i redditi sopra 28 mila euro. In verità i redditi sopra 28 mila euro lordi sono tantissimi in Toscana e soprattutto pensate a quelle famiglie monoreddito magari con uno, due, tre figli a carico dove una differenza di importo 3, 4, 500 euro alla fine dell'anno sono una quantità corposa di soldi che avrebbero sicuramente destinato ad altro. Noi non siamo d'accordo sull'aumento delle tasse. Il presidente Gianni aveva già aumentato il bollo auto nel 2022 dicendoci che cosa? Che c'era un problema in sanità. Quindi i problemi in sanità erano conosciuti da tempo. Si potevano valutare altre strade come quella che noi sosteniamo da tempo. Il problema sanitario. La governance non funziona, la sanità in Toscana non funziona. Perché vedete si fa passare il messaggio che non si vogliono tagliare servizi, non si vuole tagliare il sistema sanitario. Ma il sistema sanitario toscano è al collasso. Le liste d'attesa sono sempre più lunghe. Non si sono verificate nuove assunzioni se non quelle degli amministrativi di un certo tipo. Non si parla di nuovi medici, non si parla di nuovi infermieri. Pensate che all'ospedale di Cisanello sono sei le sale operatorie che sono state chiuse nell'ultimo mese per una spending review. Quindi questo non vuol dire andare a migliorare la sanità toscana. Dobbiamo ammettere che il fallimento della riforma del 2015 è in crisi. Dobbiamo ripartire da lì, farci domande serie e concrete su quello che dovrà essere nei prossimi anni la sanità toscana, che non può andare avanti così e non possiamo continuare mettendo in mano le tasche dei cittadini toscani. Io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio. Forse era la centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza. C'era una divergenza di punti di vista. Una questione oggettiva che noi abbiamo, insieme al collega Sguanci, rimarcato dal primo giorno di questa discussione, noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica una tassazione molto forte nei confronti di cittadini toscani. Io l'ho definita fin dal primo giorno iniqua, ingiusta e non corretta per un livello di progressività che non ritengo corretto. Penso che sia legittimo discutere nel merito. A un certo punto di queste trattative, in queste giornate, si è entrati nel merito, non si è arrivati laddove noi volevamo, perché noi pensiamo che non sia corretto che una persona, un professionista che guadagna 85 mila euro non debba pagare niente perché ha un regime forfettario, non pensiamo che non ci sia una gradazione corretta che porti sulla fascia delle persone che sono una classe media, quelle persone che da 1.400 euro al mese guadagnano 2.500 a dover pagare più 97%. Questo ci ha consentito di disentire su questa misura. Questo non vuol dire che noi non stiamo in maniera attiva, importante nella maggioranza, l'abbiamo dimostrato facendo approvare nel DREF un atto importantissimo che per esempio sul collegamento fra Siena e Roma porta fondamentalmente un'innovazione straordinaria di collegamento ibrido. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo votato in termini di bilancio e di legge di stabilità tantissimi articoli che riguardano investimenti, opere pubbliche, riguardano i nostri comuni da Firenze ai comuni del territorio senese, aretino e Pistoiese e non solo, lo abbiamo fatto nelle misure di governo per quanto riguardano le imprese, l'economia, l'agricoltura. Noi ci stiamo in questa maggioranza e credo che dita la viva ci ne sia bisogno perché questo senso critico e questo spirito porta a raccontare la verità. Noi non siamo per aumentare le tasse, abbiamo messo in campo proposte alternative, noi eravamo e rimaniamo convinti che il credito debba essere riscosso. Sbaglia il governo Meloni a non assumersi questa responsabilità e a costringere le regioni a fare queste manovre. Quindi noi avremmo continuato a fare la battaglia nei confronti del governo Meloni. Mi fa un po' strano che siamo gli unici a denunciare le mancanze di un governo che non mantiene gli impegni con i cittadini e con le regioni. Ma ci sono diverse cose che non vanno. Prima di tutto l'abrogazione di alcuni articoli importanti come fondi per l'edilizia scolastica che vengono proprio cancellati, la riduzione di importi importanti a favore della mobilità ciclistica, ma uno fra i più gravi a nostro avviso è l'esiguo stanziamento per i centri antiviolenza a malapena 50.000 euro che vista anche la situazione particolare che ha portato ad un incremento del 35% delle chiamate per chiedere aiuto ai centri antiviolenza. Dare un importo così piccolo ci sembra veramente non capire la situazione. Anche ieri c'è stato un femminicidio bruttissimo ai danni di una giovane donna incinta. Quindi non crediamo che sia veramente ammissibile che la regione toscana dia un importo così basso per i centri antiviolenza. Per fortuna, come dicevo in aula, ho saputo che in Parlamento tra i fondi a disposizione delle opposizioni sono stati stanziati 40 milioni per i centri antiviolenza con una voltazione all'unanimità, anche se la proposta è stata fatta dalle opposizioni, è bene dirlo. Quello che mi domando, anzi ci domandiamo, è questa continua rimodulazione di investimenti e impegni di spesa, come anche tra le righe viene menzionato come richiamo della Corte dei Conti, ha portato in alcuni casi a stipulare dei mutui per i quali la regione toscana ha pagato degli interessi, nel caso del raddoppio ferroviario Pistoia-Lucca si parla di un rinvio di 10 anni, quindi noi abbiamo acceso dei mutui e abbiamo pagato interessi passivi per 10 anni. Questo a nostro avviso sono spreco di risorse, così come anche tanti altri, per dire lo stanziamento di 800 mila euro per il golf del Casentino che addirittura non sono solo stati rimodulati, ma addirittura aumentati di 100 mila euro in una situazione del genere, dove chiediamo ai cittadini toscani di mettersi le mani in tasca e pagare i buchi della sanità, noi diamo 100 mila euro in più per il golf del Casentino. Ecco, io mi domando dove si trovi il coraggio di fare queste operazioni e questo è soltanto un esempio. Noi siamo contrarissimi all'aumento delle tasse, soprattutto in questa misura, perché vanno a toccare il ceto medio, che è in un momento particolare di difficoltà tra l'inflazione e l'insicurezza generale, dovuta anche alla situazione geopolitica che non fa certo venir voglia né di investire né di aver fiducia sul futuro, quindi questo pagamento extra di tasse sicuramente a nostro avviso non può certo portare a una maggiore fiducia nel futuro e quindi si ripercuote su tutto lo sviluppo economico della regione. Fermo restando che non possono certo essere i cittadini a far le spese di una cattiva amministrazione della regione.